I poliziotti del commissariato di Taormina, con la collaborazione di operatori delle squadre mobili di Messina e Catania, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di cinque soggetti indagati a vario titolo per i reati di spaccio e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rappresenta l'epilogo delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Peloritana e condotte dalla sezione investigativa del commissariato di Taormina su una presunta compagine delinquenziale dedita al traffico di droga operante sulla zona e con base operativa nel pieno centro storico taorminese. Secondo l'ipotesi di accusa, le cinque persone arrestate sono indagate per diverse condotte di spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish, poste in essere da soggetti di Taormina già noti alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. Durante le investigazioni, in poco meno di sei mesi, è stata individuata l'abitazione di uno degli indagati sita in prossimità dei locali della Movida Cittadina, all'interno della quale i clienti, secondo quanto sin qui è emerso, potevano consumare lo stupefacente. È stato inoltre identificato un soggetto catanese quale presunto canale di rifornimento dell'organizzazione. Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, il giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per quattro indagati e quella dell'obbligo di dimora per il quinto.